Sopero ad oltranza a Molfetta dei lavoratori della Svim Service 19, i lavoratori messi in cassa integrazione senza spiegazioni, criteri, ragioni reali. Mobilitazione degli studenti anche a Bari, rinviata il 21 febbraio alla discussione del decreto profumo che ridisegna i criteri di assegnazione delle borse di studio. L'amore è un diritto di tutti perché l'amore non fa differenze. Parte da Bari la campagna between a favore dei matrimoni gay, in campo anche la Cigelle di Bari a sostegno del matrimonio per coppie omosessuali. Ben ritrovati su Cigelle Bari TV, lo avete sentito dai nostri titoli, sciopero ad oltranza dei dipendenti della Svim Service a Molfetta nel barese 19, i lavoratori messi in cassa integrazione senza spiegazioni, criteri, ragioni reali. I particolari in questo servizio è cominciato lo scorso 7 febbraio a Molfetta lo sciopero di due ore a fine turno con sit-in dalle 14 alle 15 dei dipendenti della Svim Service, azienda informatica del gruppo Ex Privia, quotato in borsa. L'azienda, in tutto 250 dipendenti circa, si occupa della gestione del sistema informativo sanitario pugliese. Quattro giorni di sciopero per protestare contro la cassa integrazione di 19 dipendenti, dal momento che l'azienda non ha dato spiegazioni né sui criteri né sulle ragioni reali. Tanto è vero che molti di questi dipendenti potevano essere riallocati, si poteva ricorrere alla rotazione, ma la Svim Service non ha voluto tenere in considerazione nessuna di queste opzioni. Ad aggravare il tutto, oltre alla totale assenza di relazioni sindacali, per illustrare il piano industriale, l'azienda non rispetta il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici, su molti aspetti, quali trasferte e reperibilità straordinari, che non vengono pagati sempre. Le RSU fanno sapere che in piedi dà tempo un tentativo di dialogo costruttivo, ma che ad oggi la direzione si è rifiutata di dialogare con il sindacato. La direzione di Svim Service non ha avviato la risoluzione di nessuna delle questioni poste al centro dell'attenzione dall'Assemblea dei lavoratori lo scorso 1 febbraio e non ha dato seguito all'invito a ritirare o modificare le condizioni di applicazione della procedura di cassa integrazione, che inizialmente ha riguardato 9 lavoratori, nel frattempo aumentati a 11, il cui numero potrebbe ancora aumentare con modalità mortificanti per la dignità degli stessi e riservandosi di porre in cassa integrazione ancora altri lavoratori. Fino a quando i vertici aziendali non decideranno di sedersi attorno ad un tavolo e discutere con le rappresentanze sindacali, lo sciopero procederà ad oltranza. Protestano in tutta Italia gli studenti per non farsi rubare il diritto allo studio e grazie alle mobilitazioni di questi giorni e alle posizioni di contrarietà espresse dalle regioni, gli studenti riescono a portare a casa un risultato importante. È stata rinviata al 21 febbraio la discussione del decreto Profumo, un decreto che ridisegna i criteri di assegnazione delle borse di studio e che secondo gli studenti baresi penalizza gli atenei del sud. Pertanto resta alto lo stato di agitazione degli studenti nel capoluogo pugliese. La mobilitazione degli studenti a Bari ha avuto suoi effetti. Nel corso della conferenza Stato-Regioni la discussione del decreto Profumo che ridisegna i criteri di assegnazione delle borse di studio universitarie penalizzando, denunciano gli studenti, gli atenei del sud, è stata bloccata e rinviata al 21 febbraio. Soddisfatti gli studenti che però non mollano e dichiarano che continueranno a protestare organizzando assemblee e occupazioni in tutte le sedi universitarie pugliesi contro il decreto del Ministro Profumo che ridisegna i parametri per accedere alle borse di studio nelle università. La riforma modifica le soglie per accedere agli aiuti a tutti gli studenti e le studentesse con reddito ISEE superiore ai 14.300 euro contro i precedenti 17.000, affermano gli studenti della rete della conoscenza, sarà negato l'accesso al bando per l'erogazione delle borse di studio nel sud Italia. Al nord e al centro invece i limiti massimi saranno rispettivamente di 20.000 e 17.150 euro ISEE. Dopo aver modificato più volte il decreto, grazie alle mobilitazioni di questi giorni e alle posizioni di contrarietà espresse dalle regioni, tranne la Lombardia, gli studenti portano a casa un importante risultato, ma rimane alto lo stato di agitazione degli studenti di Bari. E continuiamo a parlare di scuola, la FLC CGL Bari sta svolgendo una serie di assemblee in tutte le scuole di ogni ordine e grado nei vari comuni della provincia per parlare dell'accordo che restituisce lo scatto di anzianità 2011, tagliando però le risorse per il lavoro straordinario. Sentiamo. In concomitanza con una campagna su tutto il territorio nazionale, la FLC di Bari sta svolgendo numerose assemblee sindacali in orario di servizio nelle scuole di tutti i principali comuni della provincia di Bari per dare la parola ai lavoratori. Lavoratori per i quali tutte le organizzazioni sindacali del mondo della scuola, 4 su 5, tranne la FLC CGL, hanno deciso di firmare un accordo che, modificando il contratto nazionale, restituisce l'utilità dell'anno 2011 per la maturazione degli scatti di anzianità che solo 115.000 su quasi un milione di lavoratori della scuola percepiranno effettivamente, tagliando di netto il fondo per il salario accessorio per tutti e lasciando inalterati tutti i problemi che gravano sulle retribuzioni, sulle condizioni in cui si opera e in cui versa la scuola. Qui siamo nell'Istituto Elena di Savoia, al quartiere Iapigia di Bari. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati i contenuti dell'intesa e le ricadute sulle buste paga e sulla contabilità delle scuole. Al termine di ogni assemblea, come previsto dalla campagna nazionale, viene registrato e verbalizzato il parere dei lavoratori sull'accordo con un'apposita certificazione che consentirà di dare valore e peso all'opinione di tutti i lavoratori della scuola. Il risultato di questa forma ampia di partecipazione e valutazione dell'accordo costituirà un ineludibile punto di partenza per tutto il movimento sindacale e per la politica che fin da subito sarà chiamata a cimentarsi con una nuova stagione contrattuale per il mondo dell'istruzione pubblica statale. L'amore è un diritto di tutti perché l'amore non fa differenze. Parte da Bari la campagna Between a favore dei matrimoni gay in campo e c'è da anche la CGL di Bari a sostegno del matrimonio fra coppie omosessuali. Vediamo. Io, Pino Gesmundo, aderisco alla campagna Between. Il matrimonio è un diritto di tutti perché l'amore non fa differenze. E il segretario generale della CGL di Bari, Pino Gesmundo, a prestare gratuitamente la propria immagine per la campagna Between a favore dei matrimoni gay. E come lui hanno deciso di farlo anche scrittori, cantanti, registi, attori, tutti quanti insieme a declinare il concetto che l'amore non fa differenze. Volti noti dello spettacolo e della cultura, italiani e internazionali, da Dario Argento a Carmen Consoli, Emilio Solfrizzi, Antonio Stornaiolo, Daniele Pecci, il trio Medusa, per citarne solo alcuni, l'elenco in continuo aggiornamento perché sempre più persone stanno aderendo ad una vera e propria campagna rivoluzionaria ideata per garantire ad ogni forma d'amore il giusto riconoscimento. Partita da Bari la campagna Between vuole espandersi in tutta Italia per rivendicare il diritto al riconoscimento dell'amore. Punto fermo l'allargamento dell'istituto giuridico del matrimonio alle coppie omosessuali. E' tutto, grazie per essere stati con noi e continuate a seguirci sul nostro canale CGL Bari Web TV ma anche sul nostro sito internet www.cgelebari.it Il nostro settimanale di approfondimento ve l'onda anche su Delta TV, canale 78 del digitale terrestre Puglia e Basilicata, tutti i giorni intorno alle 7.40 e replica alle 24. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.